Siamo nella casa circontariale di Poggio Reale di Napoli per un focus sulla gestione della patologia respiratoria e della popolazione carceraria. Qui con noi il dottor Mario Forlenza, direttore generale dell'ASL Napoli 1. Direttore, quindi finalmente i fatti. I fatti sono che stamattina noi partiamo con un progetto che viene presentato in questa iniziativa. Il progetto prevede sostanzialmente uno screening a 360 gradi per tutti i detenuti del carcere di Poggio Reale per le patologie respiratorie. Noi un paio di mesi fa abbiamo acquistato due spirometri di ultima generazione e l'abbiamo dotata alla struttura sanitaria all'interno del carcere. Naturalmente noi partiamo da Poggio Reale ma l'obiettivo è anche di estenderla a secondi degli anni e eventualmente ad altre strutture penitenziarie. Penso ad esempio a Nisida, un penitenziato da un punto di vista giovanile, perché queste patologie sono tra le più diffuse in ambito carcerario. Ma abbiamo un obiettivo più ambizioso, diciamolo molto francamente. Noi stiamo progettando e vedendo di realizzare anche uno screening per quanto attiene alle malattie infettive, che è altrettanto problema, sempre in ambito carcerario, che è altrettanto problema che è molto diffuso nelle carceri italiane. Direttore, visto che la nuova legislazione è affidata a voi il compito di coordinare questi servizi, adesso non solo avete carta bianca, cioè competenze e professionalità. Non solo abbiamo negli anni, perché dobbiamo sapere che fino al 2008 la sanità penitenziaria era gestita dal Ministro di Grazio e Giustizia, una gestione impropria. Con la legge del 2008 è stato portato nel giusto alvelo le competenze sanitarie al servizio sanitario nazionale. In questi dieci anni, perché sono passati dieci anni, l'altro giorno abbiamo fatto un focus in regione proprio per fare la valutazione di questi dieci anni, che cosa è emerso? È emerso che in regione Campania ci sono luci e ombre. Le luci e ombre, le luci in modo particolare, sono soprattutto sulla sanità penitenziaria di Napoli. Noi abbiamo, come ASL Napoli 1 Centro, avuto particolare attenzione alla popolazione carceraria, tant'è che abbiamo due strutture sanitarie, appoggio reale e assecondigliano, che nel corso della riunione ci sono state riconosciute come strutture che funzionano e che diamo un servizio di alta qualità. E perché lo diamo di alta qualità? Lo diamo di alta qualità perché, ad esempio, abbiamo assunto tutta una serie di specialisti ambulatoriali in tutte le discipline, cardiologia, pneumologia, urologia. Cioè, questi medici stanno dando un fortissimo contributo a che la situazione sanitaria sia sotto controllo da un punto di vista medico e appunto di profilassi sanitario. Direttore, dicevamo, ovviamente voi fate la vostra parte, anche il Governo deve fare la sua parte, mettendovi in condizione ovviamente di realizzare non solo questi progetti, ma dare la possibilità a questi operatori ovviamente di credere nei progetti che portano, diciamo, ecco, la soddisfazione ma soprattutto la dignità. Guardi, il problema del Governo, il problema del finanziamento del servizio sanitario nazionale, in questi giorni si sta discutendo con, lei sa, la legge di bilancio, la legge, diciamo, che distribuisce le risorse che il Paese, che il Governo ha su vari capitoli. Speriamo, questo è un auspicio, io non lo so la discussione dove ci porterà, ma speriamo che per quanto attiene il servizio sanitario nazionale il finanziamento sia aumentato e non diminuito. Perché certo, tutte le iniziative si possono fare se ci sono le risorse sufficienti. Qualora queste risorse non ci dovessero essere, è chiaro che vanno fatte sulle varie iniziative in campo delle scelte, quale fare per prima e quale, come dire, sacrificare. Direttore, in conclusione dobbiamo dire che finalmente si vedono fatti e non chiacchiere e parole. Ma i fatti, guardi, sono, diciamo, dalle cose che stiamo facendo in questi mesi. Perché noi, ad esempio, abbiamo aperto il pronto soccorso dell'ospedale del mare che, diciamolo francamente, non ci credeva nessuno. Nessuno avrebbe scommesso un euro, probabilmente, sull'apertura del pronto soccorso. Lo abbiamo aperto. Preannuncio che ad oggi ci sono in servizio, presso l'ospedale, oltre 960 tra personale medico, infermeristico e professionale amministrativo e che apriremo dal 31 ottobre anche il cosiddetto pronto soccorso DEA di primo livello. Il che significa che il pronto soccorso che noi abbiamo aperto, che era lo step iniziale, va a qualificarsi ancora di più e cioè potrà ricevere anche patologie molto più gravi. Questo in quale ottica? Nell'ottica di avere l'ospedale del mare come punto di riferimento, perché lo diventerà una struttura efficientissima da tutti i punti di vista come punto di riferimento dell'intera sanità campana e soprattutto, che è la cosa più importante, avrà questo compito anche di decongestionare la cosiddetta zona ospedale di Napoli, ivi compreso il cardarelli che molto spesso è affogato da eccessivi ricoveri che portano poi le cosiddette barelle e i problemi che sono dietro queste situazioni. Ecco, con il dottor Acambora noi ci soffermiamo ovviamente sullo scopo e il significato di questo focus, ma soprattutto di questo magnifico progetto. Niente, noi abbiamo già da un po' di anni a questa parte dato inizio a una serie di eventi e questo forse è il primo ECM che si realizza in una struttura penitenziaria ed è un'attività rivolta all'individuazione di quelle patologie emergenti che spesso non vengono ben diagnosticate, rientrando in quel vasto programma degli stili di vita che noi cerchiamo di migliorare nella popolazione ristretta. Qualche anno fa ci siamo occupati del diabete, ci stiamo occupando adesso delle patologie respiratorie, a giorni ci occuperemo anche dell'epatite C e della sua eradicazione all'interno degli istituti di detenzione, almeno quelli della città metropolitana, che risultano essere i più affollati purtroppo in Italia. Dottore, questo progetto è orientato ovviamente alla dignità, al rispetto della salute? Certamente, l'articolo 32 della Costituzione che prevede parità di trattamento sanitario cerchiamo di applicarlo quando meno, ricordandoci comunque che questo è un carcere, non è una struttura purtroppo sanitaria. Abbiamo fatto in modo che all'interno del penitenziario, grazie al direttore generale e a coloro che si sono avvicendati prima del direttore generale, abbiamo creato all'interno di questo carcere un poliambulatorio con un'offerta assistenziale per so che sovrapponibile a quella del distritto. Cosa ancora più importante, noi attraverso la visita di primo ingresso, il detenuto che ha il contatto per la prima volta, perché è proveniente da ambienti particolari, riusciamo ad intercettare molte patologie che forse diversamente fuori non ci si riesce. Dottore, finalmente non si vedono più, ovviamente per carità, negli ospedali quei detenuti che vengono per forza ovviamente di necessità sottoposti a degli accertamenti, screening. Invece con questo progetto, certe terapie o magari patologie, diagnosi, si possono fare tranquillamente qui? Certamente, noi possiamo comunque la fase diagnostica iniziarla qui all'interno del penitenziario, ricordando comunque che per quanto riguarda poi il seguito dobbiamo dare l'opportunità anche al cittadino privato dello Stato di Libertà di curarsi in una struttura decorosa, dignitosa, che sicuramente non può essere il carcere. Quindi gli interventi chirurgici, tutte quelle terapie che necessitano comunque di una supervisione ospedaliera vanno avviati presso i nosocomi. Purtroppo il problema qui è legato più alla sicurezza, perché teoricamente il detenuto può essere curato in qualsiasi ospedale cittadino napoletano. Qui avremo nell'ambito del convegno il responsabile del padiglione Palermo, che è l'unico reparto detentivo insistente nella città di Napoli, ma 10-12 posti letto sono comunque pochi per la necessità di interventi chirurgici che i detenuti sono costretti a fare. Quindi cercheremo anche con la componente politica che vedo oggi qui rappresentata di poter lavorare ad una movimentazione, come si è detto anche nell'ultimo focus sulla sanità penitenziaria, fatto qualche giorno fa in Consiglio regionale, affinché si crei una lista di attesa più ristretta per favorire anche i cittadini privati dello Stato di libertà di non aspettare tanti lunghi giorni per poter essere operati o comunque sottoposti a misure curative, più intensive, come si può fare negli ospedali. Quindi dottore, questo è un personale che gestite direttamente voi? Gestiamo dal 2008 direttamente noi, al quale insieme alla Polizia Penitenziaria va tutta la mia solidarietà perché è sottoposto a uno stress notevolissimo. Loro sono costretti, a differenza degli ospedali, a dare la terapia perché per ordinamento penitenziario la terapia va data in monosomministrazione quindi si allungano notevolmente i tempi. Purtroppo l'ambiente detentivo stiamo notando da qualche mese a questa parte che anche il nostro personale come quello della Polizia Penitenziaria va soggetto a uno stress lavoro dipendente. Stiamo cercando di lavorare aprendo uno sportello proprio in grado di intercettare anche il fabbisogno sia della Polizia Penitenziaria come ci è stato chiesto dall'amministrazione e anche del nostro personale che lavora all'interno del penitenziario. Direttore, come possiamo concludere questo focus all'insegna della dignità del detenuto? Lo chiudiamo dicendo che sostanzialmente il detenuto ha gli stessi diritti della persona che non è detenuta soprattutto in campo sanitario. Il fatto che uno sia privato della libertà personale non significa che non debba avere assistenza e l'assistenza deve essere allo stesso livello di chi non è stato ristretto in una casa circondariale. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere questo livello di assistenza. Con questa iniziativa penso che siamo sulla buona strada e seguiranno altre iniziative come ho detto prima relativa ad esempio ad uno screening sulle malattie infettive che è altra patologia che è molto presente nelle carceri italiane e su cui noi ci stiamo lavorando.